Seconda giornata di ritorno domani pomeriggio nel campionato di Serie D, anche se per tutte le compagini abruzzesi, ad eccezione dell'Aquila, sarà in realtà la prima partita dell'anno. C'è anche una squadra che la prima partita del 2017 la vedrà posticipata mercoledì prossimo, il San Nicolò, che recupererà la gara di fermo il 18 gennaio, stessa data anche per gli altri recuperi. Ma domani osserverà il turno di riposo, perché il calendario presentava la gara interna col Chieti, San Nicolò che surrocherà sempre domani alle 11 con un amichevole con la Berretti del Terramo al Bonolis. L'Aquila invece dovrà dimenticare il cocente stop con il Monterosi, il tecnico Morgia, ha tenuto tutti a rapporto dopo una prestazione scialba in una giornata importante per quello che era uno scontro diretto. Non è bastato il gol del debuttante Peluso, domani dovrebbe essere la volta di un altro debuttante, Mallus, sulla carta ostacolo semplice, un foligno che è stato sull'orlo del ritiro e che ora dovrebbe presentarsi all'Aquila con una formazione imbottita di giovani. Avezzano in trasferta Civita Castellana, sul campo del Flaminia, il presidente Paris dopo aver rinforzato la squadra ha spronato i suoi a migliorare i numeri del girone d'andata. La squadra partirà domenica mattina alla volta del vicino Lazio, un solo assente, Luca di Genova ha messo KO da una lesione muscolare al polpaccio. Nel girone F due partite con ex sugli scudi, all'Aragona, la vastese ospite San Marino, guidato in panchina da Pino Di Meo, il tecnico di Trani ha vinto un campionato di Serie D nel 2009 con una incredibile rimonta sul Fano e alla piazza di Vasto è ancora legato. La vastese proverà però a dargli un dispiacere, anche se la settimana di allenamenti è stata complicata dalla neve. La squadra si è allenata a Termoli e San Salvo. Mancherà ancora per squalifica il bomber Prisco, al suo posto Galizia che agirà in avanti con Fiore e Felici. A Pineto invece arriverà la Vispesaro, trascinata dai gol del capocannoniere del girone, un pinetese doc come Rocco Costantino, peraltro ex di questa giornata. Per lui, che col Pineto ha debuttato tra i grandi diverse stagioni fa, una giornata speciale, ma la squadra di Amaulo ha bisogno di punti salvezza. La società del presidente Brocco continua ad essere attiva sul mercato e dopo l'arrivo del centrocampista Donatangelo e del difensore Fiumara, ha completato l'acquisizione del portiere classe 98 Giacchetta dalla primavera del Pescara.